Sul delega della Direzione Distrittuale Antimafia della Procura della Repubblica di Salerno, la Polizia di Stato, squadra mobile di Salerno, ha eseguito sei misure cautelari personali, cui due applicative della custodia in carcere, una degli arresti domiciliari e tre applicative della misura dell'obbligo di dimora, a carico di quattro uomini e due donne, tutti domiciliati in San Mango, Piemonte. Contestualmente, la Procura della Repubblica, presso il Tribunale dei Minori, ha delegato alla medesima Polizia Giudiziaria l'esecuzione di una ulteriore misura custodiale in carcere nei confronti di un giovane che, all'epoca della Commissione dei Fatti, era minorenne. Alle persone raggiunte dalle misure cautelari sono stati contestati i reati di detenzione a fine dispaccio di sostanze stupefacenti, estorsione aggravata dall'articolo 416 bis ed il delitto di detenzione illegale di armi da sparo. Le indagini sono iniziate a seguito dell'omicidio di Ciro Donofrio, avvenuto il 30 luglio 2017. Le attività tecniche hanno consentito di sequestrare circa 8,5 kg di hashish e una pistola semi-automatica modificata, detenuta dal minorenne. La contestazione dell'aggravante del metodo mafioso è fondata sulle gravi minacce di morte proferite dal principale indagato nei confronti di un pusher e dei familiari di quest'ultimo a seguito del mancato pagamento di un quantitativo di stupefacente.